Ben ritrovati amici di calciomercato.com insieme oggi per parlare di un grande protagonista fin qui del campionato della Roma Enric Mkhitaryan che sta facendo davvero benissimo una certezza sulla tre quarti assist anche contro l'Inter la Roma ha trovato un accordo con Mkhitaryan e con il suo agente Raiola per il rinnovo del contratto per un altro anno era scadenza tecnicamente nella prossima estate Mkhitaryan adesso l'accordo verbale c'è va messo per scritto risolti gli ultimi dettagli ma insomma ci siamo per il rinnovo di Mkhitaryan dunque niente svincolato di lusso in questo caso con la Roma che punta su di lui un Mkhitaryan entusiasta di come staranno la sua avventura italiana in giallo rosso e dunque pronto a restare a Roma